Quindi parlare di epigenetica ormai è all'ordine del giorno, se non si parla di epigenetica non si sta parlando più di nulla, se non si parla di microbiota intestinale non si parla più di nulla. I convegni oggi nella stragrande maggioranza di casi purtroppo ripetono sempre le stesse cose. Capita a me, come penso sia capitato anche a voi nei settori specifici di lavoro, che nei convegni e nei congressi solitamente vengono presentate le slide di 10-15 anni fa. E quindi sentire anche qualcosa di innovativo fa bene, fa bene per crescere, crescere come medici e quindi nuove tecnologie, nuove metodiche diagnostiche. La finalità è quella di riuscire a conoscere meglio i nostri pazienti, perché una maggior conoscenza del paziente significa riuscire a dare una migliore impostazione terapeutica. Quindi la diagnostica, diagnostica che non deve essere solo strumentale, è una diagnostica che si deve basare sui dati clinici, che sono assolutamente fondamentali, quindi una conoscenza personale che il medico deve avere, è un approfondimento di quello che sono invece le tecniche non solo, ripeto, strumentali, quindi ecografiche e quant'altro, ma anche di tipo biomorale. Perché queste ci fanno capire l'aspetto biologico del nostro paziente. E quindi una terapia anche mirata, da un punto di vista anche integrativo. L'integrazione che oggi viene fatta, a mio modesto parere, poi come vedremo nelle slide, viene fatta in modo frequentemente univoco. Gli integratori sono tutti uguali. Nuove tecnologie, ok. Una delle quali è l'S-Drive. Allora io ho conosciuto un anno e mezzo fa, circa due anni fa, il dottor Terziani, il quale mi aveva spiegato di questo apparecchio che viene utilizzato, questa metodica che viene utilizzata per riuscire a capire delle modificazioni tipo bigenetiche. E il Giorgio sa che io ero scettico, perché in me la scetticità purtroppo esiste. Scettico perché non riuscivo a capire. Nonostante io conoscessi da anni il professor Spaggiari, che ci ha parlato sempre di quantistica e l'importanza, io non riuscivo a capire. E poi invece ho detto, io non capisco probabilmente perché non ho studiato a sufficienza, da una parte, e mi sono messo un po' ad informarmi, non a studiare. A studiare informandomi, quindi non raggiungendo i livelli che ovviamente raggiungono loro dal punto di vista biofisico. E poi l'applicazione clinica, perché la cosa molto importante è applicare ciò che si dice. E devo dire che l'S-Drive mi ha dato delle grosse, un grosso aiuto, da un punto di vista non diagnostico, ma come orientamento, dati acquisiti, per quanto riguarda l'impostazione diagnostica come direzionalità, su dove devi andare fondamentalmente. Questo mi ha detto l'S-Drive, è veramente utile. Però io mi sono posto delle domande, ho detto, ma come l'amico Carlo ci spiega che dal bulbo del cappello si riesca a capire tutte queste cose. Allora io mi sono posto una domanda, ma in una cellula dalla quale origina la vita, che cosa ci può dire questo S-Drive? E allora io non posso darvi dei dati, perché ho provato a farlo, ho provato a vedere che cosa succedeva, ho provato a vedere che cosa ci rispondeva la Germania. E devo dire che ho confrontato i dati ottenuti di un paziente da un bulbo di cappello, da una goccia di sperma. E devo dire che i dati sono interessanti, però vi ripeto, non voglio dire assolutamente nulla, no perché non ve lo voglio dire, ma perché ho ancora insufficienti dati per poter dire qualcosa che abbia un valore, semplicemente questo. Oggi, basta, io poi adesso lascio che parlino i colleghi, il quale vorrei ringraziare Giorgio per questa splendida giornata di cultura, gli amici Mario Biava e Spaggiari, arriverà, c'è anche Murgio, eccetera, il professor Murgio, eccolo qui, tutti quanti. E quindi io mi auguro che sia un momento questo per crescere tutti quanti. e quando dico tutti quanti vuol dire che gradirei riuscire a crescere anch'io. Quindi tutte le domande che volete fare, di qualunque genere, se siano, fatele. Per questo è un momento in cui dobbiamo crescere anche noi. Quindi se c'è qualcosa che non vi quadra, ditelo, fatemi la cortesia. Vi ringrazio e buon lavoro. Molto velocemente, innanzitutto grazie. E quando ho visto il loro progetto, progetti dei centri di procreazione naturale assistita, messi appunto dal dottor Firmo, Luigi Montano e la Pappalardo, il progetto mi è piaciuto veramente tantissimo. Ho detto, beh, cosa possiamo fare insieme. Perché cosa possiamo fare insieme? Perché oggi, come sapete, 20 anni che cerco di divulgare informazione e prevenzione e nutraceutica attraverso un approccio con ricerca scientifica e cultura, eccetera, eccetera. Però il discorso cosa è? Che spesso, mi è capitato proprio in questo congresso, quando parli di fertilità, procreazione, non interessa. Come se fosse un aspetto che sia solo per chi si occupa di l'andrologia, il ginecologo o chi si occupa di fertilità. Ma com'è possibile che non ci interessa veramente la salute delle persone, e quindi dei genitori, delle madri, dei padri, prima del concepimento? Com'è possibile che non ci interessi salvaguardare la vita, no? La salute di queste persone prima di donare la vita? E infatti molte persone non sono venute per dire no, questo non è un argomento che mi interessa. E io dico, ma com'è possibile? Eppure parte tutto di lì. E molti medici dicono, no, che argomento è? Eh no, alla fertilità non interessa. E come fai a rimanere fertile? Come fai a essere fertile? Solo se sei una persona sana, spesso, no? Come fai a dare una luce alla luce dei bambini sani? Se sei sano. Beh, e allora faccio sempre vedere questo video come inizio. Allora faccio sempre vedere questo video come inizio. Allora faccio sempre vedere questo video come inizio. perché probabilmente siamo abituati a vedere le cose come ce l'hanno sempre fatte vedere e quindi crediamo, le credenze, i condizionamenti sociali, familiari, culturali ci permettono di vedere delle cose che poi sono completamente diverse da quelle che vediamo ma probabilmente abbiamo bisogno di un nuovo paradigma e ha voglia di prendersi a cuore la salute delle persone ma faccio sempre la domanda quant'è l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento poi oggi lo affronteremo in maniera scientifica dai relatori ma voglio dire, quante volte sentimo parlare di inquinamento ma che approccio abbiamo nei confronti dell'inquinamento quanti tipi di inquinamento esistono? sappiamo benissimo che tutti questi fattori condizionano la nostra salute quindi se è vero che l'epigenetica sta sopra tutto è vero anche che ci dimentichiamo quanto sia grave vivere costantemente a contatto con campi elettromagnetici, radiazioni addirittura ci dicono che è troppo sole, in alcuni casi fa male ma spesso sappiamo che però c'è sempre l'ovesso della medaglia quanto fa male e quanto fa bene tutte le cose hanno un ruolo sulla nostra salute e poi l'apnei, la psiconeuroendocrinologia però ci stiamo dimenticando che senza l'ossigeno nulla può funzionare le nostre cellule hanno la grande capacità di consumare ossigeno per produrre energia ma se noi non moduliamo la corretta ossigenazione a livello cellulare non riusciamo a produrre energia però quanti riescono ad avere un approccio che prima di tutto metta a posto il motore che fa funzionare le mie cellule e poi incomincio a dare l'alimentazione corretta e a dare i consigli ottimali per un sano stile di vita perché se noi non attiviamo i mitocondri è chiaro che la cellula non può funzionare e anche in caso di normossia spesso, come insegna il professor Semenza nelle sue pubblicazioni dice anche in stato di normossia spesso la cellula non è in grado di modulare di consumare l'ossigeno perché? perché c'è una disfunzione mitocondriale DNA mitocondriale che non si fa utilizzare l'ossigeno quanti ne teniamo conto di questo? non ne sento parlare spesso di queste cose se è vero che noi mangiamo per produrre idrogeno e respiriamo per avere l'ossigeno è vero che dalla combinazione di ossigeno e idrogeno c'è l'energia per la vita ma cosa mangiamo e cosa respiriamo? lo sappiamo? sì, lo sappiamo ma sempre più fattori inquinanti beh, oggi sentiremo il professor Burgio ma sappiamo già che queste cose vengono portate alla classe medica spesso rifiutate e allora certi medici, professori come il professor Morgante si mette a fare le relazioni per la gente comune per il pubblico per creare cultura su quello che può essere il condizionamento epigenetico per la salute delle persone e allora dobbiamo tutelare la vita perché ormai penso che stiamo chiudendo le porte quando ormai sono scappati i buoi perché questa è la situazione abbiamo più del 40-45% di obesità ormai anche in Italia sta arrivando eccom'è dall'America abbiamo comprato tutto dopo la Coca Cola abbiamo comprato anche questo e questo è il risultato e allora vogliamo tutelare questa vita e come facciamo? io dico sempre si salvi di può perché penso che Milano l'area di Milano non può cambiare ormai nessuno come non possiamo cambiare l'area di Napoli di Torino delle grandi città delle metropoli ormai per risolvere il problema dell'inquinamento alzano il livello ammesso nelle città che senso ha? aumenteranno sempre i problemi allora chi è? siamo intelligenti o siamo saggi? penso che diventare saggi sia il nostro obiettivo quindi evitare i problemi perché salvaguardare la salute delle cellule l'ambiente dove vivono le cellule essere consapevoli che ormai l'inquinamento 467.000 morti l'anno in Europa per inquinamento e facciamo ancora finta di nulla il problema è sempre la dieta? non è possibile allora se è vero che questi studi sono importanti questo è uno studio uscito con l'ANSA 18 aprile 2018 pubblicato che ci dice che 7 miliardi di persone vivono in zone con le polveri sottili e superi limiti delle linee guida dell'organizzazione mondiale della sanità sappiamo che l'inquinamento elettromagnetico sta diventando una pandemia che i nostri ragazzi e noi stessi siamo continuamente contaminati da radiazioni e questi sono dati importanti perché sono ufficiali che contaminano i nostri cervelli le nostre cellule viviamo ormai sotto i tralizzi di alta tensione abbiamo a che fare con il wifi perché se non c'è linea guai tutti dobbiamo essere collegati sì o no? e poi andiamo a letto col cellulare sotto il cuscino perché magari si addormentano i ragazzi oppure bambini di un anno col cellulare in mano come babysitter sì o no? al ristorante eppure questa ricercatrice di Harvard dice attenzione all'uso di wifi nelle scuole e ma negli uffici nelle case negli hotel quanto viviamo in queste zone altamente intossicate? e allora dormiamo così dormiamo così noi non solo i nostri ragazzi e questo è un altro dei ricercatori della scuola medica dell'università di Yale dicono che attenzione perché l'inquinamento elettromagnetico può condizionare lo sviluppo del cervello nel nascituro è chiaro che se una madre telefona e ha il laptop qui con il wifi è chiaro che diventa un forno a microonde questo è uno studio pubblicato recentemente che ci dice che ci sono in aumento linfomi le ocemia e melioma e questo è lo studio pubblicato per persone parlano di militari ma ormai siamo diventati tutti militari abbiamo i ripetitori davanti a casa io ho avuto la fortuna sfortuna tra virgolette ma ho fatto un'esperienza di 14 anni nella marina militare ero nelle navi da guerra e ho fatto due volte la guerra in Golfo Persico nell'87 88 e 90 91 quindi so bene cos'è cosa sono i campi magnetici e le radiazioni elettromagnetici quando noi dovevamo salire a riva cioè sulla nave per fare delle riparazioni eccetera spengevano radar e ripetitori perché se no si bruciava tutto compreso i gioielli di famiglia quindi pensate continuamente questi ragazzi con il cellulare sempre in tasca o nel taschino o nei pantaloni o nella giacca e quindi è certo che l'ambiente agisce sui geni ma ci dimentichiamo spesso che il nostro motore non funziona in maniera ottimale quindi la disfunzione è mitocondriale dobbiamo ricaricare le batterie bisogna normalizzare il consumo di ossigeno modulare il consumo di ossigeno certo perché questo è uno studio Cordis febbraio 2017 21 paesi nel mondo multicentrico quindi è un mondiale e hanno dimostrato che le modificazioni epigenetiche come la metilazione del DNA sono fondamentali per la regolazione della scrizione genica e influiscono sul sviluppo della stabilità del genoma e questo è regolato dalla carenza di ossigeno o dalla corretta ossigenazione abbiamo scritto anche pubblicato questo libro nel 2015 edito da Edra abbiamo fatto varie ricerche scientifiche pubblicate su riviste internazionali sulla possibilità di modulare l'ossigeno in maniera ottimale ma quello che penso è che dobbiamo dare un messaggio forte perché è chiaro l'oceano è fatto di gocce quindi ogni goccia ogni cosa che facciamo ogni informazione ogni confronto perché poi la verità non ce l'ha nessuno quindi confrontarci creare alleanze di cervelli per migliorare la qualità della vita nostra e quindi essere di esempio per migliorare quella degli altri penso che sia una grande responsabilità è una cosa meravigliosa perché se continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto rischiamo di restare dove siamo e avremo gli stessi risultati cosa possiamo fare? noi avete sentito prima proponiamo anche la possibilità di valutare l'impatto ambientale lo sappiamo che se strappiamo dei capelli li mettiamo vogliamo capire se una persona fa uso di sostanze stupefacenti cosa facciamo? l'esame? sul capello e se vogliamo valutare l'intossicazione a metalli dei pesanti il capello ma poi anche il test di chelazione per valutare nelle urine se c'è quella quantità di metalli che abbiamo trovato come marker nei capelli eccetera eccetera però ancora probabilmente questo interessa è un peccato e allora avere un'indicazione un'indicazione non una diagnosi perché diagnosi lo sapete meglio di me come si fanno ma avere un'indicazione di che strada possiamo seguire e confrontarla con approcci di diagnosi ottimale penso che sia un fattore importante perché a noi vogliamo prevenire perché curare lo stiamo facendo tutti andiamo facciamo un'analisi troviamo un problema su cento persone quante su cento hanno i noduli quante su cento hanno il colesterolo quanti su cento hanno l'omocisteina bene troviamo le persone che hanno i problemi penso che non si possa continuare così e allora benvenga un concetto di epigenetica che va affrontato naturalmente in maniera rigorosa scientifica e poi confrontandosi giornalmente su quello che poi sono le evidenze e diceva Tesla che se vuoi trovare il segreto dell'universo pensa in termini di energia frequenza vibrazione informazione quando dico questo dice vabbè ma sulla luna con cosa ci andiamo scusate sulla luna gli astronauti cosa usano sulla luna come riescono a sopportare questa possibilità di lasciare la terra e arrivare nello spazio come fa? hanno una tecnologia completamente diversa da quella che noi usiamo sulla terra sì o no? è certo allora se c'è questa tecnologia per loro perché non ci deve essere anche per noi e usano queste cose perché per mantenere il cervello in maniera ottimale nello spazio devono dare una frequenza che si chiama Schumann basta andare sul sito della NASA e digitare Schumann non su topolino no sulla NASA andate sulla NASA e digitate frequenza di Schumann e vi esce fuori quello quanto è importante la frequenza di Schumann per gli astronauti ma anche per noi perché noi qui viviamo grazie a questa frequenza e là la mimano in maniera che possano tutelare il cervello di questi astronauti e poi dobbiamo amare la vita perché è l'unico regalo che non riceviamo mai due volte ma ci siamo scordati ormai dei valori di pace e amore che possono essere qualcosa di grande per l'umanità e quindi dare l'esempio per migliorare questo mondo e la vita senza amore non ha senso grazie buon lavoro a tutti